Ha indossato per la prima volta la fascia tricolore e il volto, sorridente e tranquillo come sempre, in quel momento ha tradito più di qualche emozione. Piero Castrataro è ufficialmente il nuovo sindaco di Isernia. La commissione elettorale ha completato il lavoro di controllo dei verbali delle 23 sezioni e nel chiostro di Palazzo San Francesco si è proceduta la proclamazione di tutti gli eletti in questa tornata amministrativa 2021. Una cerimonia brevissima a cui ha preso parte tutta la squadra che ha sostenuto Castrataro nei due mesi di campagna elettorale e che ora si accinge a governare la città contando sui fondi del PNRR ma anche su ciò che si riuscirà a intercettare da altri bandi europei e con l'obiettivo di iniziare il percorso di rinascita di una città che negli anni si è spopolata e che sconta le conseguenze della crisi sanitaria ed economica. Ora al lavoro sulla giunta e dentro dieci giorni il primo consiglio. Il sindaco annuncia tempi brevi per l'avvio del mandato. Avere una proclamazione così rapida è sicuramente un aspetto positivo perché così possiamo convocare subito il primo consiglio, presentare la giunta e le linee programmatiche del sindaco. Anche questa cosa verrà fatta in tempi rapidissimi in modo tale da insediarci il prima possibile per poter guardare soprattutto alcuni dati di bilancio e proseguire con tranquillità il resto della consigliatura. Ce la metteremo tutta, credo che abbiamo tutte le competenze nella squadra e nella squadra di quelli che saranno gli assessori e i consiglieri per poter garantire un funzionamento della macchina amministrativa rapido, veloce e consentire anche gli investimenti privati, non li dobbiamo dimenticare soprattutto quelli del super bonus che potrebbero avere un impatto positivo e rapido sull'economia cittadina. Nell'esecutivo ci sarà un assessore che tra le altre deleghe avrà quella all'Europa dovrà occuparsi di scovare gli avvisi più interessanti e di guidare le imprese sui progetti. Pochi giorni fa abbiamo visto alcuni bandi su progetti europei, i cosiddetti bandi life quindi è molto probabile che ci sia, però lo stesso assessorato si occuperà non solo di garantire di partecipare con il comune a determinati bandi per gli enti locali ma anche aiutare i privati e le imprese a scovare risorse europee. In occasione della proclamazione di Castrataro c'è stata anche l'ultima uscita da sindaco per Giacomo D'Apollonio che dopo essersi tolto più di qualche sassolino puntando il dito contro il centrodestra ha lasciato una relazione di mandato al suo successore. È importante garantire una continuità e soprattutto continuare a lavorare su quello che è stato già iniziato dall'aggiunta precedente ed aggiungere chiaramente del nostro per fare di meglio per la città. Grazie.